Allora, questa volta voglio provarvi una ricettina di giallo zafferano e si tratta delle focaccine integrali salate cotte in padella che quindi sono veloci e semplici da fare e vediamo soprattutto se mi riesce bene Allora, gli ingredienti sono, ve li leggo Allora, qui dice una dose per 6 pezzi 125 g di farina integrale 125 g di farina tipo 00 160 g d'acqua Olio di oliva 40 g 5 g di sale Lievito in polvere per preparazioni salate 5 g Dello smalino tritato Poi vi servirà un pochino di farina per stendere la pasta E per farcire qui potete sbizzarrirvi a vostro piacimento Non so, col crudo, con della Philadelphia, con un altro tipo di affettato Insomma, quello che vuole Ok, proviamoci insieme Allora, voglio precisare una cosa Io la farina integrale non ce l'ho in casa Quindi questa volta utilizzerò questa farina per pane nero Che ha il lievito di birra già dosato all'interno Quindi di lievito ce ne aggiungerò la metà di quello che dice Ecco Questa farina di pane nero è di marca Laconte E c'è scritto che è con avena naturalmente ricca di beta-glucano E l'avevo già utilizzata per appunto fare del pane nero E mi è piaciuta abbastanza Quindi vediamo un po' come viene questo esperimento Allora, ecco qui tutti gli ingredienti pronti Per essere assemblati E adesso vi faccio vedere il procedimento Scusate se non mi faccio vedere Ma non avrei saputo fare di meglio come ripresa Ma l'essenziale è che vediate il procedimento Allora, andiamo a mescolare le due farine Da prima io inizierò a mescolarle A lavorare diciamo l'impasto in questa ciotola E poi passeremo alla lavorazione sul piano di lavoro Allora, prima la farina integrale Poi La farina bianca Allora, io ci vado a mettere Giusto giusto un Neanche mezzo cucchiaino Di lievito Per torte Per Per preparazioni salate Perché in realtà ci vorrebbe 5 grammi di lievito Però essendo, come ho detto prima Che la farina integrale contiene già Del lievito all'interno Io ne vado diciamo A diminuire La dose Poi Vado a D'aggiungerci direttamente Il sale Il rosmarino E il rosmarino l'ho triturato in precedenza E Un attimo che facciamo un po' d'ordine E vado a versarci L'olio Chi ha la possibilità di utilizzare una planetaria Sicuramente si troverà molto meglio ad impastare Io mi arrangio così perché la planetaria non ce l'ho Quindi vado a versarci l'olio Facciamo il buchino al centro Vado a versarci l'acqua L'acqua poco alla volta Ne aggiungerò poco alla volta Inizio Ad amalgamare Il mio composto Aggiungo un altro pochino d'acqua In teoria dovrebbe venire un composto abbastanza morbido Ecco probabilmente in questo caso Dovrò aggiungere un po' di farina Perché mi sembra anche un po' troppo Umido Allora vado ad aggiungerne un po' di Quella 00 Allora Adesso vado a Il composto è piuttosto appiccicoso Vado a mettere un po' di farina Sul piano di lavoro E provo a continuare lì Perché nella ciotola È piuttosto difficile Ok Ok Già Si inizia a ragionare E credo che ci siamo come impasto Bello asciutto Elastico Adesso stenderò un altro po' di farina sul tavolo Per andare a stendere Per andare a stendere L'impasto Col mio mattarello Procedo con la stesura Non dobbiamo farla tanto sottile Ok Io direi che come Spessore ci siamo Io vado con un bicchiere A fare Le mie forme Della focaccina Eccolo qua E procediamo Vedete io le faccio piccoline proprio Poi ovviamente vado a Ristendere l'impasto avanzato Ecco qua Vado ad appoggiarle in un piatto Su della Quarta forna L'impasto lo riprendo E poi lo ristendo Un po' di farina per non farle attaccare Comunque tra di loro Allora Eccoci qua Le focaccine Sono piuttosto piccoline Le ho fatte piccole Io Penso che Le useremo come pane O comunque Come dicevo prima Con dell'affettato Sopra E Ne sono venute Una quindicina Se voi volete farle più grande Con questo impasto Ne vengono circa Sei Altrimenti dovete raddoppiare Le dosi Ok Adesso andiamo A cuocerle In padella Allora Allora In una padella Antiaderente Ho messo Un filino d'olio Che però Andremo a Diciamo A cospargere Con Della carta assorbente Perché Non è che voglio Friggerle Non è che dobbiamo Friggerle Queste Focaccine Ma Dobbiamo solamente Appunto Farle cuocere Quindi L'olio Lo distribuiamo Così Andiamo ad accendere Il fuoco Aspettiamo Che si scaldi Un po' E procediamo Dovrebbero Cuocere Da quel che dice La ricetta 5 minuti Per lato Vediamo un po' Allora Passati 5 minuti Provo a girarle Dall'altra parte Allora Sembra che si stiano Cuocendo bene Io le rigiro Dall'altra parte Che così si dorano Un altro po' E continuo così Fino alla fine Delle Focaccine Da cuocere Ed ecco qua Le focaccine Sono pronte Mi sono dimenticata Di dirvi una cosa All'inizio Prima di cuocere Le bucherellate Le focaccine Sia da una parte Che dall'altra Così si cuoceranno Meglio all'interno Spero siano buone Vi farò sapere Alla prossima Ciao